Dirò dell'altre cose chi vos corte nella commedia di Dante Alighieri e questo è il titolo del libro della scrittrice Maria Soresina al centro dell'incontro svoltosi il 12 maggio all'interno della sala degli oratori di Palazzo Moncada. Rispetto ai miei precedenti libri, per esempio parlo di Maometto che negli altri non parlo, parlo di Ugolino che negli altri non parlo e tanti altri personaggi che insomma non posso sempre trattare tutto. La cosa essenziale è il catarismo di Dante, che Dante era cristiano, sì buon cristiano ma non cattolico, che la dottrina che lui espone nella Divina Commedia è quella dei, quelli che noi chiamiamo catari perché loro si chiamavano buoni cristiani. Un'interpretazione differente alternativa dell'opera e del pensiero dantesco, quello che presenta la studiosa di Dante Alighieri e che è stata illustrata nel corso di un appuntamento voluto dal Comitato Provinciale della Società Dante Alighieri e del Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo. Abbiamo organizzato diversi incontri su Dante Alighieri lo scorso anno, quest'anno qualcuno in meno, però quello con Maria Suaresina è eccezionale, devo dire. E lo debbo al professore Salvatore Farina, docente di storia e filosofia al liceo classico, che ve l'ha presentata. E Maria Suaresina è una delle maggiori studiose a livello europeo di Dante Alighieri e ha scritto questo libro che oggi noi presentiamo e che fa parte di una trilogia importantissima. Tra l'altro mi piace ricordare anche il suo rapporto tra Dante e la musica. Una passione per Dante iniziata in India, come la stessa Maria Suaresina racconta. Io ho fatto delle scuole diverse, sono di madrelingua tedesca, ho fatto le scuole tedesche a Milano e Dante chiaramente non l'ho studiato lì. Mia figlia, quando avevo già 50 anni, mi ha regalato in occasione di un mio viaggio in India una piccola Divina Commedia e da lì è nato l'amore. La saggista e studiosa dentista ha incontrato anche i giovani studenti del liceo classico linguistico e coreotico Ruggero VII di Caltanissette il giorno successivo in occasione dell'apertura della rassegna della scuola Contemporaneamente Leggere per comprendere organizzata nell'ambito della manifestazione nazionale il Maggio dei Libri anche in questo caso è stato il docente Salvatore Farina di introdurre Maria Suaresina che ha fatto tappa anche a San Cataldo in occasione della mostra internazionale d'arte La pace nel mondo allestita nella sala Borsellino del comune sancataldese. Grazie a tutti